Salve a tutti e benvenuti su soluzioni pc oggi vedremo come configurare windows 11 dopo averlo installato senza un account microsoft è noto che nell'ultimo periodo microsoft ha fatto di tutto per cercare di impedire alle persone di usare windows sia 10 che 11 senza la connessione ad un account microsoft ad oggi che è giugno 2024 è ancora possibile configurare windows 11 dopo l'installazione senza un account microsoft vado a dire semplicemente con un account locale adesso andremo a vedere come fare ma per prima cosa alla prima accensione vi comparirà questa schermata è importante che il vostro pc non sia connesso ad internet io adesso sto utilizzando virtualbox ma ho disabilitato la scheda di rete andiamo avanti sulla configurazione ecco qua adesso andrà alla ricerca degli aggiornamenti e vedrà che non c'è rete come vedete mi chiede se ho problemi di connessioni e dice che è necessaria una connessione internet a questo punto dove sembra non esserci soluzione andiamo a premere sulla tastiera maiuscolo ed f 10 e ci si aprirà un prompt dei comandi in questo prompt andiamo a digitare premiamo invio e il pc si riavvierà una volta riavviato ci ritroveremo di nuovo all'inizio della configurazione ma stavolta se continuiamo andiamo avanti a questo punto quando farà la ricerca degli aggiornamenti ci comparirà un nuovo pulsante che ci permetterà di saltare questo step di riconoscimento tramite l'account microsoft semplicemente premendo non ho internet e poi continua con l'installazione limitata potremo andare a configurare un normalissimo account locale anche senza password ed ecco qui che lo step del riconoscimento tramite account microsoft è passato adesso sarà sufficiente finire la normale configurazione di windows e in pochi minuti avremo windows funzionante naturalmente subito dopo andiamo ad abilitare la rete per avere gli ultimi aggiornamenti e spero di esservi stato utile questo è tutto per oggi iscrivetevi al canale per altre soluzioni pc commentate se ci sono dei dubbi e lasciate un like se sono riuscito a risolvervi un problema ciao